Siamo qui a Nola, nel cuore del Centro Storico Siamo qui a Nola, nel cuore del Centro Storico Storico che hanno vissuto il Palazzo di Città che è alle mie spalle e che hanno contribuito a far sì che l'esecutivo, l'amministrazione, avesse luce. Buonasera, Avvocato Vincenzo Martone, ex Assessore alla Cultura del Comune di Nola, tra i principali protagonisti nel primo buonauro, diciamo così, nella prima parte dell'amministrazione. Dicevamo nello stand-up in apertura che non è un bel momento, non è un momento facile per Nola. Tu ne hai fatto parte, hai vissuto il Palazzo e più volte hai affidato anche ai social il tuo malessere, il tuo rammarico. Ecco, com'è andata e come poteva andare? Beh, in effetti è un epilogo triste quello che al momento siamo giunti a distanza di poco più di due anni. Effettivamente quello che abbiamo fatto in una prima fase dell'amministrazione buonauro è stato un qualcosa che ci ha visto veramente protagonisti e ci ha visti, insomma, vivere il senso di gruppo, di appartenenza a un gruppo, di una squadra, a credere nel progetto e a portarlo avanti. Chiaramente in questa prima fase la voglia e l'entusiasmo era al massimo. Poco dopo, ecco, almeno per quanto riguarda la mia vicenda personale, 11 mesi dopo arriva insomma quello che è la revoca di un assessore già preceduta da quella del vice sindaco e se il buongiorno si vede dal mattino questi sono stati i primi segnali a mio avviso che poi sono stati un crescente fino ad arrivare a quelle che è l'epilogo che tutti quanti noi conosciamo. E da parte del sindaco, chiaro, revocare un vice sindaco e successivamente un assessore alla cultura, tra l'altro vorrei ricordare una settimana prima della festa dei Gigli, sicuramente non è un bel sintomo. Però, parlando di un corpo malato come ha fatto lui nei suoi atti, un corpo malato che sin dall'inizio dava dei sintomi sicuramente di una salute un po' così e quando non si prende consapevolezza di questi primi sintomi è chiaro che poi, diciamo, si arriva a un punto di non ritorno ed è quello che abbiamo vissuto. Ecco, siamo qui in piazza. Tra l'altro da pochi giorni si sono incluse le celebrazioni legate al Santo Patrono, San Felice, Vescovo e Martire. Tu proprio in questi giorni hai affidato nuovamente ai social una sorta di malessere dovuto al fatto che due anni fa, quando eri tu assessore, si è fatto un percorso. Il commissariamento porta delle restrizioni a cominciare proprio dalla festività di San Felice. una città vuota, una città che molti nonani non hanno riconosciuto in quei giorni di festa. È chiaro, diciamo, il vedere andar via un'amministrazione non è mai una bella cosa per una città, a prescindere poi dall'operato di un sindaco o meno. Chiaro, quando sono arrivato io nel 2022 sul PEG del Comune c'era veramente pochissimo e parliamo di 3-4 mila euro, questo era quello che si poteva spendere a suo tempo. Quindi la progettazione poteva essere in futuro, ma non certamente nell'immediatezza. E fare quel San Felice, così come lo abbiamo fatto, e voglio precisare che è stato fatto un San Felice anche con la collaborazione di vari assessorati, insomma l'assessorato alla cultura, quello effettivamente anche del commercio, abbiamo fatto un bel San Felice e abbiamo riportato anche quelle che erano le luminarie al centro della piazza, all'ingresso e all'uscita del corso. Ed è stato un sacrificio veramente perché reperire i fondi in un comune che usciva da un dissesto, chiaro che effettivamente era complicatissimo, però è stato un ritrovarsi, era un portare di nuovo le persone a vivere la città, a vivere il centro, a vivere soprattutto la propria cultura, la propria cultura, ovvero quella che caratterizza la nostra città. E chiaramente la cultura, che è un qualcosa da coltivare sempre di più, per poi progettare e far crescere e riconoscere, è chiaro che poi nel momento in cui si viene a tagliarla diventa, come dire, porta a quello che abbiamo visto, il San Felice, poco e niente. Come sarà il futuro di Nola? Beh, penso che Nola deve essere, deve, voglio crederci, che sarà un futuro che deve riprendere, deve effettivamente trovare la sua centralità in un centro come quello dell'Agro Nolano, e Nola deve essere, secondo me, deve puntare molto soprattutto sulle forze nuove e crederci perché un futuro migliore potrà esserci. Grazie a tutti! Grazie a tutti!